Procida candidata a Capitale Italiana della Cultura 2022, presentato oggi in videoconferenza con gli esperti del Ministero dei Beni ed Attività Culturali, il dossier di partecipazione dell'Isola Campana. La delegazione procidana ha illustrato durante l'audizione l'importante significato che avrebbe una possibile proclamazione come Capitale Italiana della Cultura. In collegamento il sindaco Ambrosino, la direttrice generale politiche culturali e turismo della regione Campania, Rosanna Romano, e il docente Francesco Izzo, direttore del Dipartimento di Economia dell'Università Van Vitelli. Presentato il tema del dossier dal titolo La cultura non isola, scelto prima della pandemia e di cui significato appare oggi ancora più pregnante. Elaborato quindi un fitto programma che comprende 44 progetti culturali per 330 giorni complessivi di programmazione, tra cui il Green Deal, l'innovazione sociale ed urbana, il turismo lento e la gestione sostenibile degli eventi. Il progetto, presentato da Procida, è stato definito molto bello e ben costruito dal presidente della commissione ministeriale. Lunedì prossimo la commissione indicherà al ministro Dario Franceschini il nome della località ritenuta più idonea per raggiudicarsi il titolo per il 2022.